Un progetto importante perché è rivolto chiaramente alle persone indigenti, alle persone in difficoltà, qui parliamo di promuovere e di puntare a fare i test per quanto riguarda questa patologia dell'HIV, questa eventuale patologia e quindi l'iniziativa importante è che lo Spallanzani, oltre a erogare il servizio che fa sempre all'interno, apre le porte, ma più che apre le porte va sui territori, quindi va sui territori e insieme a tutta la rete straordinaria dell'associazionismo e del volontariato collaborano, cooperano e puntano alla promozione sicuramente, ma puntano a catturare, a percepire anche tutte quelle persone che sono invisibili e che forse non sanno neanche, non sono consapevoli di tutti i servizi che la Regione eroga e quindi si vanno ad individuare e a far sì che loro possano fare questi test importanti per prevenire e più che altro per curare.